Napoleone Cera, consigliere regionale Udc. In questi giorni si sta parlando molto della possibilità di escludere la stazione ferroviaria di Foggia dalla linea diretta Bari-Roma. Qual è la sua posizione? Sinceramente io sono convinto che qualsiasi posizione campanilistica e territoriale, come può essere quella del sindaco di Bari-De Caro, ma come può essere anche la posizione di alcuni politici foggiani, non porta da nessuna parte. Io sono convinto che le varie aree, quindi aereo, ferrovia, strade, devono parlarsi tra di loro. Se non riusciamo a fare questo discorso significa che abbiamo fallito in tutto sui trasporti. Quando una persona non riesce a raggiungere Montaleone di Puglia perché le strade sono dissestate, è inutile che parliamo di aeroporto se non riusciamo ad aggiustare nemmeno le strade. Quindi io mi auspico che a livello regionale si faccia seriamente una politica sui trasporti per capire la Capitanata e non solo, più in generale la Puglia dove vuole arrivare. Io mi auguro che anche la politica foggiana capisca che l'unico motore trainante della provincia di Foggia è il turismo. Se riusciamo a mettere insieme e a collegare il Gargano con Foggia e con i Monti Dauni per fare turismo, anche ambientale, possiamo portare molti benefici a questo territorio. Tornando alla tratta ferroviaria a Bari-Roma, qualcuno dice che solo con una seconda stazione ferroviaria a Foggia si può salvare la sosta dei treni nel capologo Dauno. Io sono convinto che non c'è bisogno di una seconda stazione, non c'è bisogno di una terza stazione, io sono convinto che bisogna mettersi a tavolino e ragionare e capire realmente cosa si deve fare. Il treno per arrivare a Roma un quarto d'ora prima non serve non fermarsi a Foggia, serve evidentemente collegamenti più veloci, non serve binario unico, noi stiamo parlando ancora di un treno che viaggia sul binario unico, che deve fare precedenza o deve dare la precedenza ad altri treni, quindi insomma di cosa stiamo parlando?